La cartomanzia è la divinazione per mezzo delle carte da gioco. Se il cartomante è un vero medium, legge le notizie che già esistono nel corpo mentale del richiedente. In questo caso si tratta di telepatia e il cartomante è un telepata. Le carte quindi sono solo un appoggio e potrebbero anche non essere usate. In questo caso si tratta di telepatia. La cartomante è un partito di telepatia. La cartomante è un'esercizio di telepatia. La cartomante è un'esercizio. E' un'esercizio di telepatia. Allora per quanto riguarda